Ciao, ti stai chiedendo se dovresti cercare un'alternativa gratis a siti e app di incontri a pagamento? Bene, nel video di oggi andiamo a vedere perché questa non è una soluzione e non potrà esserla mai. Io sono Giordio Lorenzo e questo è seduzionattrazione.com Dunque, per prima cosa, prima di entrare nel vivo del perché cercare alternative gratuite a siti e app di incontri non è una buona idea, lascia che mi presenti se non mi conosci ancora. Infatti, se tu non mi conosci potresti chiederti ma chi è questo per venirmi a spiegare come rimorchiare online? E se lo fai, se lo hai fatto, hai assolutamente ragione. Infatti l'Italia è piena di fuffaroli quando parliamo di soluzione che non ti mostrano mai quello che sono in grado di fare nel mondo reale. A me invece piacciono i fatti e proprio per questo, quando parliamo di online, tanto per farti un esempio delle prove che ti mostro, ho deciso di fare una specie di esperimento sociale. Sono andato in una nuova città per due giorni e mi sono messo a vedere quanti appuntamenti riuscivo a fissare in due giorni di lavoro partendo completamente da zero, cioè rifacendo quelli che erano i miei profili. Molto bene, in due giorni di lavoro ho fissato 18 appuntamenti. E se tu sei curioso di saperne di più, ho creato un video gratuito dove ti mostro le prove di quanto ti sto dicendo e lo puoi andare a guardare al link in descrizione. E se in qualsiasi momento di questo video tu decidi che ti piacerebbe sapere di più sul sistema che mi ha permesso di ottenere questi risultati, beh, si chiama Seduzione Digitale e ci puoi dare di nuovo un'occhiata al link in descrizione. Quindi perché la filosofia del gratis non ti fa fare sesso online? Beh, per prima cosa facciamo una distinzione, ci sono infatti due possibilità. La prima è quella in cui tu non vuoi pagare come cliente pagante siti app di incontri. La seconda è quella in cui tu cerchi attivamente delle alternative gratuite a siti e app di incontri o tramite siti similari o tramite applicazioni similari o tramite chat oppure tramite piattaforme che non sono native per far conoscere uomini e donne. Dunque partiamo quindi da quelli che sono i siti app di incontri normali. Se tu non vuoi pagare, beh, lascia che ti dica molto chiaramente, se tu non hai le sembianze di un dio greco, questa roba per te non funzionerà. Poi ragazzi, se voi volete provare a fare qualche appuntamento all'anno, per qualcuno saranno zero, per qualcuno saranno una decina o giù di lì, quel che è, contenti voi, contenti tutti. Ma se voi volete operare e ottenere risultati come dei veri e propri assassini online, allora bisogna pagare. E ragazzi, non so se ve ne siete accorti, ma io qui sono a proporvi un corso che si chiama Seduzione Digitale. E nel momento in cui vi dico voi dovete pagare, se siete degli uomini normali per ottenere risultati online, sto potenzialmente perdendo clienti al mio corso. Quindi quando vi dico una cosa del genere, penso che tutti possiamo essere d'accordo sul fatto che mi potete credere. Anzi, a dirti tutta, ci sto perdendo soldi a dirti le cose come stanno. Quindi spero che tu dall'altra parte apprezzi. Il punto è questo, ragazzi. Siti di incontri, se voi non pagate, non vi permettono di mettere in moto il volume di lavoro che vi serve per ottenere risultati costanti e ripetibili. Mentre quando parliamo di app di incontri, ci sono gli algoritmi di applicazioni come Tinder che vi penalizzano moltissimo proprio perché, essendo che voi non pagate, non vi interessate come clienti. Ricordate che a fine giornata queste sono aziende fatte per fatturare e non per farvi pisellare per carità cristiana. E di conseguenza chiunque in Italia vi faccia credere che l'online sia una buona idea per ottenere risultati con le donne ma non vi dica che dovete pagare per quanto mi riguarda ricade nella categoria dei truffatori. Ma voi siete liberi di andare a cercare quelle che sono le informazioni dove volete. Poi però non vi lamentate se vi sentite qualcosa grattare in gola senza bene capire di cosa stiamo parlando. E ora passiamo a quella che è la nostra seconda categoria, cioè quei tipi di persone che, visto che hanno capito che siti e app d'incontri hanno un costo, cercano di trovare qualche alternativa gratuita. E questa potrebbe essere magari una chat. E quindi ragazzi lasciate che vi spieghi molto semplicemente come funziona la vita quando parliamo di fica. Sapete perché i locali più costosi nella vostra città, nella vostra zona, attraggono le donne più belle anziché quelle quattro ciabatte che trovate nei locali gratuiti dove camminate e letteralmente ci avete i piedi incollati al pavimento perché qualcuno ci ha rovisciato birra o quello che è? Beh, perché la fica scappa a gambe levate da dovunque ci siano i perdenti e le persone che vanno a cercare roba gratis mi dispiace ma sono perdenti. Sarò brusco ma è così. Meglio che qualcuno ve lo dica piuttosto che lo pigliate in quel posto da qualcun altro. E quindi ragazzi, a fine giornata lo sapete anche voi. Dai, che pure che trovate un sito, un'app di incontri gratuita, questi hanno pochissimi iscritti oppure se finite su una chat queste non sanno, non sono lì per quello per di più voi non sapete che facciano non è così che funziona questa roba. Quindi ragazzi, anche nelle domande che ci fate smettete di fare domande stupide che poi mi tocca fare un video come questo insultarvi lo sapete che non funziona così questa roba cioè perché vi volete ostinare a perdere del tempo? Così non si possono ottenere risultati. Non vi siete rotti coglioni di perdere del tempo anziché iniziare ad ottenere risultati seri e reali. E poi abbiamo la nostra ultima categoria di geni cioè quelli che pensano vabbè, senti, siti, app di incontri costano ce l'ho io la genialata vado su Facebook e Instagram. E di nuovo ragazzi, non funziona così non devo essere io a venirvelo a dire ed è che lo sapete benissimo anche voi che per un uomo che ha freddo porta fuori una donna da Facebook e Instagram ce ne sono centinaia, centinaia, centinaia che vengono rifiutati. È una roba che non ha statisticamente senso. Voi dovete stare su una piattaforma che è creata e pensata per conoscere donne dove le donne sono lì per conoscere uomini. È già dura così con l'online figuratevi se poi voi andate su una piattaforma che non è nativa a parte che semplicemente passate per dei perdenti dei disperati degli sfigati degli allupati con la bala a bocca eccetera eccetera ma non porta risultati statisticamente rilevanti. E questo a meno che ovviamente voi non abbiate un milione di follower su Instagram se voi ce l'avete avete ragione voi a far così. E io poi ragazzi non ce l'ho con voi capisco anche che voi siete attaccati da informazioni di certi geni esperti quelli cazzo che sono cialtroni ecco questa è la parola giusta che stavo cercando che vi dicono o vi fanno intendere che invece Facebook e Instagram van bene per rimolchiare per conoscere donne però non vi siete anche un po' rotti coglioni di essere presi per il culo essere rapinati e compagni cantante? Qui ragazzi ve lo ripeto ve l'ho già parlato in tanti video ma chiariamolo ancora Facebook e Instagram sono solo strumenti di marketing per voi questi entrano in gioco solo dopo che voi avete conosciuto la ragazza e per darle modo di farsi la miglior impressione possibile su di voi di modo da massimizzare le chance che lei sia interessata a conoscervi uscire con voi eccetera eccetera detto in altre parole se vogliamo andare sul tecnico servono per darti riprova sociale in diretta non per rimorchiare ed è per questo che sto creando un corso sul come ottimizzarli Facebook e Instagram proprio a questo scopo ma non per rimorchiare in primo luogo detto questo ragazzi volete fare il gratis provateci provateci una settimana due settimane un mese poi basta nel senso quando capite che questa cosa non funziona dovete iniziare necessariamente a fare le cose come vanno fatte però ragazzi veramente cioè una volta che ci avete provato avete visto che non funziona basta se no passate la vita a cercare soluzioni che non esistono e non possono esistere non è così che funziona questa roba ho già fatto io i test per voi quindi mettetevi il cuore in pace ragazzi o siete estremamente estremamente belli e allora magari si potete vivacchiare con i like su Tinder piuttosto che ogni tanto qualche ragazza che vi contatta sui sti incontri piuttosto che con i pochi messaggi che potete mandare a gratis su qualche sito oppure dovete pagare è così ve lo sto dicendo contro il mio interesse nel senso che questo potrebbe distogliere qualcuno di voi da comprare soluzioni digitale ma è un qualcosa che è semplicemente così e quindi va detto hey non sei ancora andato a vedere il video dove ti mostro come prendo 18 appuntamenti in soli due giorni online che cazzo stai aspettando vai a vederlo subito clicca in alto a destra e ci vediamo all'interno del video che cazzo stai aspettando che cazzo stai aspettando che cazzo stai aspettando